Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono LexFarmer, vi do il benvenuto qui sul mio canale YouTube ed oggi siamo super impegnati con un mega carico di zuppe, carne e quant'altro. In mia compagnia è il brother, ciao brother. Ciao Alecce, ragazzi. Guardate ragazzi, stiamo caricando zuppe a tutti uompa, come sull'iretto. Quanto a tutti, il drago mi ha fatto la scaletta perché c'è Emanuele da questa parte invece. E sono caduto, mannaggia a me. Non caduto. Che scatto? Ah ok, ce l'ho fatto, l'ho scavalcato. Allora, adesso andiamo a trovare il nostro Emanuele che invece è impegnato con il carico di carne, ragazzi. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Abbiamo portato la volta scorsa più di 100 limousine, 100 limousine ragazzi, non 100 limousine macchine, eh. Limousine carne. E quindi adesso Emanuele sta caricando il camion. Ragazzi, oggi forse facciamo un botto di soldi. Quindi diamoci dentro ragazzi. Noi un camion l'abbiamo già caricato, anche perché sennò non l'avremmo fatto in tempo in questo episodio. A caricare tutto. Vi faccio vedere. L'altro è pronto. Adesso lì mettiamo le cinghie di sicurezza. Ce n'è ancora da caricare. Guardate qua. Guardate. Però, mamma mia, che carico. Attenzione. Allora, mettiamoli... No, c'è salito sopra. Allora, mettiamoli le cinghie di sicurezza. In modo tale che non perdiamo i bancari se facciamo una curva. Voilà. Siamo pronti ad andare a richiudere. Chiudiamo. Abbiamo 189.000 di soldi. Abbiamo anche noleggiato i camion, ragazzi. E quindi una spesa in più che dobbiamo tener conto. Anche perché comprare dei camion così non ce la facciamo a un momento. Quindi, amen. Allora, tanto... Costano, costano. Costano. Tutto costa qua. Tutto costa. Beh, ma di soldi ne faremo, eh. No, quello sì. Cosa dite? Inizia a fare il primo viaggio, secondo voi? Eh? Sì, sì. Vero? Allora, abbiamo solo 22.000 di zuppa di patate. 38.000 di zuppa di carota. Ci basteranno. Solo che devo vedere dove andare a vendere. Vediamo un po'. Allora, adesso... Fatemi uscire da qua. Mi sono incastrato. Dobbiamo pagare i danni del camion. Allora, adesso vediamo. Tu cosa stai caricando, bro? Cos'erano queste che non ricordo? Barbabietole, mi sa. Ah, giuppa di Barbabietole, mi sa. Di Barbabietole, per questo. Ma forse sì, eh. Quella non era la fabbrica lì del Barbabietole. Plinko sto caricando. Cosa? Plinko. Plinko? Che cazzo è questo Plinko? È la Mark. Ah, la Mark. Ok. Allora, 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 allora. Le... Non è che stai caricando Barbabietole in scatola, tu? Eh sì, mi sa che è quello. Mi sa di sì. Ce le pagano bene a 2.300... Anzi, a 2.439, ribasso, all'ortofrutta. Bene. Mentre io, invece, devo andare a vendere la zuppa di carote e la zuppa di patate, giusto? Ho detto così, zuppa di carote e la zuppa di patate. Allora, la zuppa di patate me la paga bene al... No, all'ortofrutta. Mi piace sto camion che vuole mettermi in difficoltà. All'ortofrutta paga più di tutti. Quindi posso andare a vendere direttamente tutto lì. E dove è sto ortofrutta? Dove è l'ortofrutta, qua? Tu lo sai dove è l'ortofrutta, qua? Non vedo neanche il fascio, il lumino. Bene. La domanda è, esiste l'ortofrutta? Ah, lo sai forse l'ortofrutta, quale? Fammi un po' vedere, va. No. Ma cazzo? Vabbè, dobbiamo andare in paese, l'ho visto, ho visto il fascio. Vabbè, l'importante è che mi sono fatto il punto, ragazzi. Poi. Allora, fatemi guidare col volante che sto guidando con la tastiera. No, vabbè. Su 10.000 euro di ripostazione. Struttiamola. E sto qui. E sto guidando. Vuol dire, 10.000 euro di ripostazione. No, inteso fra tutto, ragazzi. Tutti i computer, schermi e tutto. Però. Struttiamoli comunque. Struttiamola, no? Stai lì a usare la tastiera. Perché perché io sono sempre stato contro la tastiera nei giochi, eh? Io ho proprio... Eh, ma devi sapere che ho sempre avuto un odio profondo. Eh, la tastiera. Allora mi sta che hai un odio profondo verso di me. No, 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 perché... No, vabbè, che c'entra. No, io parlo di me. Io non riuscivo a giocare i giochi... Tipo i giochi di guida con la tastiera. No. No. Eh, ti posso dire, dall'esperienza personale, che è comunque una questione di abitudine. Sì, no, 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 certo. Tipo io a farming, non ho mai giocato con la tastiera. Ovviamente è più difficile. Anche solo, per esempio, caricatori frontali con il mouse è molto più difficile. Eh, beh, certo. Allora. Io ragazzi sono arrivato. Già. Siete pronti a vedere quanto potremo andare a guadagnare. No, perché c'ho... Chi è a chi ha giunto la superforza? Nessuno. Io. Ah, l'ho disattivato un attimo, bro. Perché devo slasciare qua la situation. Pronti, ragazzi? Ci avviciniamo, eh? Vediamo quanti soldi facciamo. Stai vendendo. Secondo me non facciamo tanto. No. Un milione non è tanto. Dai, che altri 200.000 le ridiamo indietro al debito? Oh, ragazzi. Sì, abbiamo fatto 196.810 più 18.000 e... No, 18.000 di punteggio ambientale. Megoyou, si può dire. E non abbiamo... Beh, beh. E non abbiamo ancora finito. Esatto. Quindi, oggi, oltre alla supervendita, caro mio brother... Cosa facciamo? Eh, restituiamo un po' di soldini. Vuoi restituire soldi? Anche, sì. Ma sei sicuro? Sì. O non sei sicuro? No, sì, sì. Vediamo quanto ne facciamo con tutto questo che abbiamo. Vabbè, abbiamo fatto in totale... Ho detto quasi 200.000 più di... 218.000, dai. Esatto. 218.000. Eh, abbiamo ancora un bel po' di roba da vendere. Carne e ancora un bel carico. Mi sa che io torno giù... Eh... Magari ci facciamo anche un altro carico. Intanto ce n'è roba giù, dai. Allora arrivo. Io ho quasi caricato quello di carne, se vuoi venderlo. No, vai, lo porti tu, Emma. Lo porti tu, Emma. Va bene. Aiuto, te lo si è caricato e te lo scarichi pure. Esatto. E che cazzo. Allora, io torno giù. Eh, oggi, ragazzi, puntata a vendita. Oggi puntata a vendita. Cerchiamo di... Fare più soldi possibili. Anche perché io, sinceramente, bro, invece di... Di restituire... Non so cosa volevo fare. Cambiare qualche trattore. Sì, avrei voluto fare un acquisto. Ma beh, ma ci esce, eh. Vediamo. E con tutto cosa che stiamo caricando. Ehi, dici? Sì. Vediamo se ci esce. Secondo me sì. Secondo me la vendita che fare Emanuele sarà... La più sostanziosa? Eh, secondo me la carne la paga di più. Mo' vediamo. Faccio un attimo... Un semplice con brollo. Vediamo. Eh, guarda lì quanto ce n'è ancora da vendere lì. Allora... Spegniamo. Spegniamo. Allora, facciamo il controllo della carne, ragazzi. Vediamo quanto ce la potrebbero pagare in questo momento. Meat. È in ribasso a 7000? Però è buono. 7000 non è male. È buono, sì. Io la venderei comunque. Sì, sì. Comunque c'è da dire che con un carico non ce la faccio. Per quattro bancali non ce la faccio. Vabbè, se non ci stanno li posso caricare io. Vediamo. Tanto alla fine lì dove porto sta roba non me la fa scaricare. Poi, in teoria, potrei prolungare. Madonna quanta roba ha fatto sta cosa qua. Ce n'è, ce n'è. Vediamo. Ma se riusciamo a caricare... Sennò ti fai un altro viaggio. Naturalmente avvisitaci quando arrivi. Di là. Beh, allora parto. Parti, parto. Parti, parto. Vuoi sapere anche quanto sto trasportando? Vai, vai. 36.000. Ok. Eh, mica non è poco 36.000. 36.000 è tanto. Dov'è che la devo vendere? C'è... Aspetta, ti indico la zona. Devi andare... Mercato agricolo, ok. Sì, il mercato agricolo che dovrebbe essere... No, perché mi dice così ficio lì, no? Sto sbagliando. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Il mercato agricolo è 137, campo. Sì, è la fabbrica che ti fa piazzare lui per vendere, capito? È il punto vendita dalla fabbrica. Perché se noti non ci sono altri punti dove andare alla vendita. Le super venditee, le super venditee. Ti mancava stare sul muletto, bro? Mi mette se devo combattere con la collision. Di cosa? Questo camion. Perché? Ah, dove ce l'ha? Eh, ma già non vince lui, no? Perca pazzola. Per fare un danno? Danni. Matti. Siamo tutti matti. Siamo tutti matti. 404.000 euro. E adesso arrivano gli altri appena arrivano. Pensavo di vincere tu? Ha vincito tutto lo zio. Se famo un po' dei sordi. Na-ni-na-ni-na-ni-na. E ci compriamo il trattorino. Nuovo, 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 nuovo. Ci compriamo il trattore. Che trattore? Eh. Un bel fenda? Eh. Vedi, eh. Ah, per questo... No, non fare così, ti prego. Si è rovesciato tutto qua. Aiuto. Aiuto. C'è la super forza attiva, ragazzi. No. Sì, toglie la, toglie. No, no, mi serve. No, no, mi serve. Allora, lascia per. Aiuto. Eh, è successo un magello. Ragazzi, devo sistemare, sennò qua mi casca tutto. Eh, la togliamo. Ok. Menomale che c'è sta aiuto, va. No. Sai che macelli? Ah, ma ce ne sono anche qua dietro nascosti. Ah, no. E poi cosa ci stavate qua dietro nascosti? Eh, le sto carichando un po' la cavolo di cane questi. Eh, però... Cerchiamo di farceli sta. Io do andare piano perché è molto instabile il camion. Eh, no, vai piano, vai piano. Va bene, gli è legati? Sì, sì. Sono tanto a cuore. Grazie, signore, grazie, grazie. Di queste zuppe che ci hai donato. Di questa carne che ci hai spawnato. Eh, sì, qua facciamo gli sordi. Qua facciamo gli sordi, raga. Qua diventiamo ricchi. Per sempre, ricchi per sempre. Ricchi e poveri. Cosa c'è, brother? Ti sei incasinato anche tu? Superforza abilitata da Dragonheart. Sì, perché c'è come un maledetto di colligia del traverso qua. Ah, perché sennò mi c'è la trafila dietro. Ti sei a disgraziare. Ti sei a disgraziare. Vieni qua da via, che me ti devo girare. Io sto per vendere, praticamente. Vai, bello, vai, vai. Facci vedere cosa riusciamo a guadagnare qua. Ci faccia sognare, signore Emanuele. Ci faccia sognare, ci faccia vivere. Un attimo che faccia le manovre. E non lasciarci sulle spine, però, eh. Vai, 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 dai. Vai. Vado scherzando, porco due. Bene che esce sia il trattore che... Porco due, oh! Porco due, non l'abbiamo ancora venduta sta roba. Eh, io l'ho detto, eh, ragazzi. Mega vendita il titolo. Titolo dice tutto, dai. Non è un titolo clickbait. No, non è un titolo clickbait. No, non è facile di ste cose. Mamma mia, brother. Ah, che bello vedere un po' di soldi nelle casse dell'azienda. Che finiranno subito. Eh, infatti. Il primo trattore è venduto tutto. Vangarotta al primo acquisto. Ah, è vero che ce ne stava solo uno sopra. Mannaggia, Lugarmin. Vabbè, intanto questi... No, vabbè, questi me li stocco di là, dai. Faccio solo sto viaggiato. Questi ce li teniamo come eventuale... Se siamo in carenza, possiamo vedere qui. Ok. Spegniamo. Vediamo tutto. E andiamo. Allora, anche qua stesso discorso, ragazzi. Come al solito, mettiamo le nostre cinghie di sicurezza per stabilizzare il nostro carico. Quindi devi farti ancora un viaggio tua, Emma. Sì, quattro bancalette ancora. Ok. E se c'è altro, carico prima qualcosa da Drago, sì. No, qua ci sarebbe, in teoria, da caricare qualcosa, ma... Tocca, vendi tutto, vendi. Vendiamo tutto, vuoi vendere tutto. Vendi tutto! Eh, Drago vuole il nuovo trattore, mi sa, da com'è. Eh, mi sa. Ma ancora ne hai tu, Roma? No, io ne ho... I ultimi cinque sto caricando. Minchia, bro. Minchia. È la miseria. Ah, ok. Allora, se ti ci stanno anche gli altri di là, eh? Conteniamo. Ah, che tra l'altro, mentre parliamo ne ho nato anche un altro di bancale. Quindi ne ho cinque da vendere. Eh, perché siamo a 0,5 di tempo. Io se lo aumento, ragazzi, qua esce roba ancora. No, non ti ci stanno, bro. Perché ne ho uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, qua, nove. Eh, sì, che ci stanno. Ci stanno? E allora, ragazzi, facciamo una cosa. Noi ci fermiamo un secondo e poi andiamo a fare un altro giro di vendita tutti insieme. Così vediamo quanto riusciamo a tirar su. Mi raccomando, non scappate che stiamo arrivando, incassiamo un sacco di soldi fra meno di un secondo. Aspettateci. Bene, ragazzi, è venuto in soccorso anche Emanuele. Abbiamo finito di caricare tutto quello che avevamo. Tutto, tutto. Eh, ma puoi anche chiudere. Così partiamo. Con il brother. Brother, tu sei carico? Com'è? Fa vedere? Sì. Eh, dai. Chiudo io? Siamo tutti e tre i camion pieni? Eh, sì. Uh. Eh, io devo farmi due tappe, eh? Eh, tu sì. Prima andiamo a scaricare questa roba qua e poi vai a venderti la carne. Eh, secondo me un milioncino ci arriviamo, ragazzi, eh. Lo superiamo a... O no? Oh, io c'ho zuppa di patate, zuppa di carotte e barbabiettolo in scatola. Ok. Eh, intanto vengono. Tutto orto frutta, giusto? Oh, il portalone è dietro, Chiuri. Chi? La rampa? Tu? Ma io c'ho roba aperta? Anche Emanuele. No, no, è chiuso, è chiuso, bro. Eh, Drago, polisci tirati ho gli occhietti. Chiedi gli occhietti. No, fermi là. Fermo là. Sì. Fermo. Fermi tutti e due. Perché? Ok. Fermo. Mi date del Vaker incoglionito. Brother, è chiuso. È chiuso. È chiuso. Brother. No, no, per carità. No, ma ti cred... Eh, ti crediamo, ti crediamo. Sono cose che succedono. Sì, sì. È l'anzianità. Sì, sì. Sì, sì, sì. È l'anzianità. Andiamo, allora. No, sono chiusi, veramente, bro. Non sto a scherzare. Sono otto. Vai, Drago, prego. Come prima, bro, che vedevi le cose. Farmene, sempre farmene. Sì, esatto. C'è poco da fare, ragazzi. Allora, adesso ci facciamo il viaggio tutti insieme. Ci siete. Emanuele, sei già incastrato? Bene, Emanuele. Non sono io. Da anni di esperienza su V-Eurotrack. Appunto, usi il tir, là, non questi cattorcenti qua. Eh, appunto. Pensa se c'avevi il tir. Uscivo dritto, meglio. Andiamo. Ma cammina, però. Eh, cazzo, è bloccato. Cazzo, cammina. Non andava, non andava. Non andava. Non andava di massa. Ma non andava, sei bloccato, te lo giuro. Si è chiodato. Dobbiamo fare un attambolamento di massa. Ma vi giuro, si è inchiodato davvero. Non sto scherzando. Come se ci fosse una collision improvvisa. Andiamo bene. Tutto normale. Tutto veri normal. Vabbè, mettiamola a visualizzare. Tanto so già che mi ve la schianta da qualche parte. Dai, tutti a 30 adesso che siamo in paese. Allora, in teoria dobbiamo girare alla prossima a destra. Comunque il cartello diceva a 50. Esatto. Eh, sì, no, è certo. Eh, no, certo. Questo paese non è stato ancora messo a 30. Ok, ragazzi, dobbiamo girare qua. Perchè altra volta. Anche l'altra volta c'era, no? Ah, non li erano tutti? No. Andrò che dobbiamo fare manutenzione? No. Comunque qua, ragazzi. Doviamo un po'. Rimettiamo gli HUD. Quando alla vecchia che siamo arrivati, di lì uscire fuori. Signora, sono andate le zuppe. I mailoni, signor. È possibile? I limoni. Eh, non ho venduto tutto. No. Bisogna mettersi così, vedi, così. Entri così. L'ambocchilla. Beh, c'è ancora roba, eh? Eh, ma non vende. Eh, va avanti. Eh, la signor ne vuole più, forse, eh? Eh, no, mo se la prende. Eh, no, UGAZ! UGAZ! No, è dietro, vedi che sono... Aspetta. C'è un problema dietro, ragazzi. No, che già li prenda. Io dico che li prenda. E vi conviene. Eh, non li prende, bro. Sa che siamo pieni? No, li sta prendendo. Ah, ma, ecco se. Non ti... No, ma perché la signora non aveva letto bene la scadenza, pensava che la volevamo truffare, capito? Beh, che ne è ancora. Eh, ma andammo li prendo. Ah, ora sì. Ah, li sta prendendo. Dai, vai. 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 Ah, che li sta prendendo? Vai. Due bancali, eh, Encore. Eh? Eh? Finisciuto? Eh, beh, no. Aspetta. Vai avanti, ecco. Vai avanti. Eh, guarda qua. Mo' li li scarico io. Signora. Eh, come sono? Signora, adesso... Signora, siccome ci mettiamo fare protesta, eh? 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 Non li prendo. No, e l'abbiamo fare, no, e l'abbiamo ottene sollevati, forse. Neanche. No, li sta vendendo, ecco, ecco. I miei li sta vendendo. Questi non li vanno. Vabbè, lascia, lascia i li li li, dai, che già. Già li passa. Ok, mi sposto. Ah, li sta prendendo e chiamano anche. Vado a trovare il denaro. Ha messo un trigger un po' maluccio. Ah. E trovare il punto giusto. Sotto a chi tocca la... Non lo vende? Signora, adesso glielo sbatte in faccia. Dai, molla glielo lì, dai, molla lì, che poi lo vediamo, dai. No, non importa. Mi fai scaricare la Drago, che cari. Prego. Apri. Così vediamo, ti scarico, il castorio e il grazie. Aspetta. Guarda, 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 che sta andando i soldini, guarda. Dai, gli. Sgancia tutto, brother, sgancia tutto, con la L. Con tre io sgancio. Soldi, 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 tititi, tititi. Beh, fermo così. Beh, 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 beh. Ah, mi hai investito. No, brother, vai avanti, che non te li sta scaricando. Beh, fermo così che sta scaricando. Io l'ho detto che un milione e noi ci arriviamo. Eh, mo si è bloccato tutto. No, adesso sta scaricando di nuovo. La signora è un po'... Signora, fammi scendere dal camion, eh. Vieni a prenderti tutto. La signora ha detto che nella bancarella non li sta più lato. No, guarda come sta prendendo tutto. Guarda, guarda, scoppio. Eh, qua è cascata a Roma. Ma c'è quelli di lato che rompono un po' le borre. Ah, li sta prendendo. Prendi tutto, bello, bello. PIGA TUTTU Ah, da problemi con questi rossi. Sì, la cosa è per paghiede. No, l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso. No, li sta prendendo, li sta prendendo. Ha venduto anche l'altro, eh, ma. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, no, è qua. Aspetta. Non se lo prende, ma cazzo è il trigger. Eccolo da, prendi. PIGA, PIGA TUTTU Aspetta che hai ancora dentro. No, aspetta, 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 aspetta. Vieni che li sta prendendo. Questo non lo vende più, si è buggato. Quello capotato, drizzaro. Ok, vai, vai. Guarda, 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 guarda. Da che arriviamo a un milione. Ah, ma adesso tocca a me. Perci il trattore e restituiamo anche il debito, brother. Una parte. Vediamo. Che cazzo, che gli do un milione alla banca. Ho beccato il punto, dai, l'ho venduto quello là. Visto? Guarda, siamo a un milione quasi. Fermati, che devo aprire la porta qua. Un milione. Dai, dai. Dai. Ma guarda che un milione e poi dobbiamo pagare pure il palo. Esatto. Sono un milione alla signora e gliela distruggo la bancarella. Fermati. Eh, non... Ah, no, neanche ancora roba dentro. Eh, sì. Signora, non mi faccia scendere. Secondo me sei troppo attaccato. Devi staccarti un po'. Esatto, devi staccarti un po'. Il trigger è leggermente più fuori, secondo me. Vediamo. Fermo, sì, sta vendendo. Sì, è leggermente più fuori, ragazzi, il trigger. Fai un po' l'indietro. Sì, sta vendendo. Vengono un po' l'indietro. Fermo, sta vendendo. Adesso dobbiamo andare avanti. Adesso vai avanti, sì. Vai. Sì, fermo così, sta vendendo. Boh, fermo così. Sì, va a posto. Chiuda pure, adesso altri... Eh, sì, tu devi andare a vendere la carne adesso. Sì. Così vediamo un po' cosa riesci a racimulare. Prego. Arrivederci, tante belle cose. Guardi, me ne vado in retromarcia. Certo. Tanto ce lo possiamo permettere. Però nel frattempo che il nostro caro Emanuele va verso l'orizzonte e oltre, pensiamo a che trattore prendere. Tanto avevamo detto che avremmo dato via il same. Il same golden. Il same golden l'avremmo dato via. No, il 180 no. Quindi lo diamo via. Ehm... Lo diamo via. Ehm... Aaaaaah... L'MF5S, il Massi, ci serve. Secondo me possiamo anche darlo via. Ma in scotto c'è niente? Niente. Che sconta. Lo prendiamo a roba nuova. Che sconta. Non ci scontano niente, ma... Siamo proprio poveri. come la fanno. Lo vogliamo dare via al Massi? Sì, cosa ci facciamo ancora? C'è 13 ore, ma è schiena. Andiamo via. Sì, non lo so mai. C'è niente. Vi ha dato via. Tanto abbiamo il fendino dei piccoli. Sì, abbiamo il Fend 314, il Fend 314 e il Fend 314. Sì, è il Fend 314. Allora, quindi... Ehm... 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 base è una base non ci piace e fatelo piacere noi lo vogliamo full option al che la quale che stai guardando il 700 gen 7 potremmo fare 728 la catena dei medi 28 gomme pneumatici larghi anzi vario grip bello così le possiamo anche gonfiare sgonfiare noi vario grip 3 pesa le ruote di re di no line power setting 1 dobbiamo fare proprio full option megoglioni 293 mila be con la sinistra a destra warning scene led cabina panoramica assolutamente standard vision non è sempre più bella la standard ti piace più la standard ragazzi vendite conclusa grazie ma ho visto quando mi piace più la standard ti piace più la standard non me lo so che mi fa cagare la standard anche perché ci costa di più cambialo la panoramic più door qual è che sta vedendo il 700 gen design package del musetto cromato brother front pto la mettiamo isaria dobbiamo mettere anche l'isaria sono 14 oh 317 mila la gps ancora altre 15 roof terminal si messo sono altri design package chrome io direi chrome solo il tubo di scappamento cromato il musetto è più bello nero si no il musetto è bello nero dove cavolo è il coso design packaging crom cromato crom ex gusto ma è quello che stavo colore principale che non ti dava il fan che colore lascia questo con lo stand si direi che è il motore è il motore è il più potente è il motore quanto gli è messo è il più potente 303 kv no 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 bro no 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 bro no mo e ma lo metto io se vuoi in azienda metto lo metto io vado colore cerchioni così sì e rosso messo comunque lo lasciamo standard si si compro 336.000 ragazzi bello 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 le scarpe sporche drago puliscile prima di entrare tanto tu mi dovrei chiedere il permesso se posso arrivare su questo trattore sappilo basta io rubo le chiavi allora ne dubito bellino dentro bello senti che sound adesso arrivo lo vediamo ragazzi avvicinati che colleghiamo il peso drago mamma mia mamma mia ho un sound e due letti davanti lo rendono proprio cattivo mamma il cucciolotto venga venga e no vabbè venga 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 hai già rotto tutto hai già rotto tutto 28.000 euro di danni hai già rotto tutto apposta 28.000 euro di danni ho già rotto tutto comprato il trattore nuovo ho già rotto i bracci di sollevamento anteriori a posto belle le luci minchia sono a led venga venga piano piano stavolta eh eh devi dimmi tutto a fermarmi a posto zu zu eh tanta roba ragazzi questo è un bel acquisto ci voleva un'azienda ci voleva il trattore sentiamo suona un attimo oh bello di stile così eh eh bene bene anche i cartelli qua di gombro eh guarda lì ti spostano anche vittorio è bellissimo bro a me è piaci un sacco bello ok quindi vendiamo anche il 180 e la morghi no ah ok vabbè io intanto faccio un giro nello shop eh mi riapri i portellini che hai chiuso i portellini sì così aspetta che è un attimo una defiance ho paura di farti volare togli un attimo eh forse il prossimo sarà un t7 della new holand non lo so vediamo ti piacciono così tanto i due cartellini sì e anche questo deve essere figo eh quale? asco comprole un t7 dai no stiamo calmi non facciamo cazzate ah ma che bello sto colore ma il t7 a te stai guardando? carino si potrebbe prendere veramente dai mi state calmi ma anche ce ne avanzano non fatevi prendere dalla dalla foga ragazzi adesso lo vedo adesso lo so sto guardando poi bellino poi anche colorare il sedilo ma che figata oh questo è bello ragazzi eh questo è veramente veramente bello dai che Alex con 300 mila lo faceva un full optional 340 cavalli dai su però i cerchioni li faccio neri eh bello davvero fa paura fa paura è una bestia minga se ingombra però allo sterzo mettigli quello che non ti mette il display sullo sterzo ma te lo mette dietro eh perché? è più bello secondo me non so del New Holland non mi piace molto che c'è lo schermino proprio in mezzo al volante boh io vado a farla proprio sul campo prego già ma quindi prendi anche il New Holland quindi dici di no nella colonna boh a me piace no io intendevo se vedi c'è la configurazione dello schermino volante sì cioè schermo al volante o schermo nella colonna eh secondo me è più bello nella colonna eh anche io lo metterò lì nella colonna non sul volante sì ah poi monitor uno ah ti mette praticamente il monitor a destra del sedile lì eh infatti voglio vedere quello eh carino no io lo lascerei tabletta iPad non capisco cosa aggiunge non l'ho capito ah ti aggiunge dietro il seggiolino ti aggiunge un iPad se vedi ah sì eh vabbè 990 decal sticker decal sticker mamma mia come cammino amore mio mamma decal sticker io metterei guarda mh io non metterei niente agrotech io metterei quello agrotech ma dove le mette? carino sul parola fango vedi agrotech non mette sul primo fango molto carino io lo metterei quello ma che figo il movimento delle assi guarda che roba dai sopprazi grazie grazie dei regali prego anche a due regali ma fate il brother ragazzi telescopico e il trattore ci hanno fatto un altro regalo ragazzi ma sì ma crepi la varizia che cazzo ce n'ha mamma eh fa fa paura fa paura che sound dai vai in giro con questo no fa paura davvero vai dai dai attacca eh ragazzi sentilo poi non ditemi che non vi porto belle cose fermo ma ma posso salire mi fa salire sopra secondo te no se ce la passo non voglio capire vai 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 a vedere oh signori oh signori ma attenti quando accelera vai no sto godendo te lo giuro andiamo da drago eh ragazzi che campanate eh non lo so non lo so con dietro la fa ma che sound ha sto trattore wow dietro la dietro la trebbia sono il campo dietro la trebbia guarda sono deciso se sia meglio questo è il Fender dai là in fondo vai urco ma stai scherzando drago senti che sound no bro non hai capito ma questa è una è una bomba bello e guarda all'interno ha tanti di quegli ic che non hai idea eh immagino poi intanto lo faremo vedere minchia riga cioè ma che acquisti abbiamo fatto oggi e ci rimangono 533.000 esatto bellissimo come ti trovi bello guarda che c'è la zavorra giù sì ma non ho capito perché mi si abbassa da solo eh c'è qualche tasto sicuramente cioè ma fa un casino con il mod non ti si alza eh no è la vecchiaia bro la vecchiaia ma l'hai selezionato sì sto usando che posso alzare sicuramente che dietro tente il rumore delle cose del braccio che solleva ma non lo solleva prova ora ascolta proviamo a sganciarlo allora prova ora eh no vedi come fa fa tutto lì da solo perché non lo so senti il rumore elettrico che del sollevamento di braccio ma non lo sollevo no prima non era sollevato scusa prima si è sollevato va a vedere 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 ma l'ex tu non hai capito puoi togliere anche il tappo del diesel il tappo del lati blu ma a serio va a vedere vieni guarda puoi svitarli guarda no follia ragazzi follia sto trattore quanto è bello vuoi salire vai vai dai fallo vedere un po' all'interno quanti ci ha anche ragazzi abbiamo fatto veramente uno spettacolo di e poi alex puoi scegliere sia accelerare con la cloche o con l'acceleratore si c'è l'IC che te lo fa fare proprio dai sgasa un pochino dai mamma mia questo ti saleva il monitor sotto è follia sto mezzo fa 60 km orari sto trattore solo che c'è poca stabilità in campo hai visto quanto balla no è normale perché abbiamo il peso davanti comunque dietro no certo però io con la portiera così aperta mi arriva un po' di freddo tieniti che mo vogliamo aiuto voglio testare i freni eh ma no frena tra l'altro quando ho freni va tutto avanti il peso si vede proprio che il fattore senti come rimbomba bellissimo bello 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 sono contento davvero abbiamo fatto degli ultimi acquisti senti al minimo che macello fa vabbè poi già che c'è la passenger sopra è tutta altra cosa eccolo qua spento bellissimo davvero grandi grandi acquisti abbiamo fatto oggi ragazzi noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione speriamo davvero di cuore che vi sia piaciuto questo video ma soprattutto abbiate apprezzato anche il fatto che abbiamo comprato due bellissimi mezzi da integrare nella nostra azienda abbiamo preso un new holland e un fenda abbiamo accontentato un po' anche tanti ragazzi che ci avevano scritto appunto sotto sotto i commenti degli scorsi video quindi grazie brother grazie Ema figurati ecco ma guarda che belli che siete affiancati qua Ema vieni vieni qua mettere faccia a faccia musa muso vai musa muso cattivi così venite ecco qua perfetto va che belli che siete fantastici fantastici anzi già che ci sono vi dico una cosa facciamo la screen va grazie ancora ragazzi per questo per questo video vi aspettiamo nei commenti vogliamo sapere belle le luci del fan comunque scendi tu Ema vai vai scendi le luci scendi le luci vai vai eccole sono led anche quelle vero certo bello lascia acceso bro lascia acceso così bellissimo noi vi aspettiamo nei commenti sotto il video signori vi invito come sempre a passare a trovare le amici di Endorfi dove potete trovare periferiche quindi mouse tastiere seda gaming case per il pc vento di raffreddamento raffreddamento a liquido e tanto tanto altro su Endorfi sito trovate in descrizione noi vi aspettiamo in un prossimo video e siamo curiosi di sapere cosa ve ne pare di questi due splendidi mezzi che abbiamo acquistato oggi in questo video ragazzi noi vi salutiamo ciao alla prossima ciao Ema ciao Drago ciao ciao ciao